Anche gli antichi greci avevano la loro autostrada, è quella che è stata scoperta durante i lavori per la realizzazione dei marciapiedi di Viale Scala Greca. La vedete nelle nostre immagini. Il rinvenimento è avvenuto appunto durante le operazioni di realizzazione di questo marciapiede, subito dopo la rotatoria che da Viale Terracati immette su Viale Scala Greca. È una scoperta che fa pensare a una sorta di autostrada antica che dal centro abitato portava all'esterno della città, correndo parallelamente all'attuale Viale Scala Greca. Una carraia che è stata utilizzata fino al V secolo a.C. in piena epoca romana. I tecnici hanno assicurato che dopo gli studi della soprintendenza i lavori comunque continueranno.